Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in un nuovo video E oggi sono confonta, però lui non mi sente Allora, io sono in chat gioco e lui è in chat party E settimana scorsa era il suo complanno, allora gli farò un regalino Gli piace questa skin qua a lui E gli regalerò anche questo bel letto qua Detto che è il suo complanno, lui volevo fare questo regalino Allora, ricarico i v-back per lui Ciao a tutti Ok, eccoci ragazzi Adesso Adesso gli andrò a regalare Poi al massimo gli regalo anche dribbling Fonta? Oh? Sciobbero, eccomi E' tutto scomparuto Scomparisciuto Eh sì, scomparisciuto, scomparisciuto Ma... Ma... Ma cosa stai facendo te? Lo sto guardando una live Ma guarda un po' lo schermo Ti è arrivato? Ti è arrivato niente? E ora non ho ancora Cioè non ho niente Mi sa che devo riavviare il gioco Sì, decisamente sì Beh, provo a fare così Ho fatto selezione a modalità Bravo Eeeh... Procce! Porca puttana Ti volevo solo dire... Prego Ti volevo dire che comunque stai registrando Per l'area hacker Mi hai fatto badire le orecchie Però grazie Ciao! Ti ho fatto questa piccola regalia Ti volevo regalare anche dribbling Però non so se mi riesco Ok Sono soddisfatta di averti fatto il regalo Perché ci tenevo troppo, lo sai Venga pure nella lobby Faccia vedere la skin Se vuoi poi andiamo un po' a giocare Mmm... Ah... Che carino Cioè ma è molto carina questa skin in effetti Ebbene Aspetta Andata roba Eh che dire ragazzi Like, iscrizione E noi ci vediamo in un prossimo video Bella guys!